Grazie dell'invito soprattutto di trovarci questa sera qui a riflettere un momento insieme, quindi non soltanto ad ascoltare, vorrei che possa essere veramente uno scambio di idee, un dibattito, un confrontare anche posizioni diverse riguardo a quello che oggi è un problema epocale, non un problema del momento. Inizio presentandomi, perché qualcuno ha sentito nome e cognome e dice ma chi è, che fa? Ecco, io sono un sacerdote di Roma, sono sempre stato a Roma, sono nato in un quartiere popolare, il quartiere Prenestino, poi sono stato viceparroco e parroco, 25 anni, in una stessa parrocchia al quartiere Don Bosco, Cinecittà, quindi bassa periferia estera, in una parrocchia di 40.000 anime, quindi parrocchia con tanti problemi anche sociali, del disagio, della droga, di tanti ragazzi che venivano lì all'acquedotto Claudio, dove ci sono questi archi ancora dell'epoca romana a drogarsi. Poi, dal 1997, quando morì il primo direttore della Caritas di Roma, Don Luigi Di Liegro, che era stato veramente sul discorso delle migrazioni un profeta, fu lui ad iniziare esattamente 25 anni fa il dossier in migrazione, che quindi ogni anno esce, ogni anno presenta questi dati, ma per bene almeno 22-23 anni è stato ignorato. Ignorato come formazione cristiana, voglio dire, perché è un testo che è sempre stato richiesto dalle questure, dalle prefetture, dal Ministero degli Interni che ne prendeva una grande quantità, quindi soprattutto per un servizio sociale non formativo. E quindi oggi ci siamo venuti a trovare con un fenomeno veramente grosso, epocale, che ci è caduto addosso, senza che c'era una dovuta preparazione per poter, non dico risolvere minimamente, ma certamente poter parare nel migliore, più adeguato o non così non adeguato come oggi, soprattutto il mondo dell'Europa, sta dando motivo. Poi, quindi, dal 1997, quando morì Don Luigi Di Liegro, sono stato chiamato a seguire la direzione della Caritas di Roma, sapete, una Caritas veramente grande. Pensate solo che ogni giorno, per 365 giorni l'anno, fornisce 1800 pasti, una media dei 1800, quindi in estate si scende anche a 1600, in inverno saliamo anche a 2000, 2000 errotti. Con tutte le altre, questo è solo il fenomeno del food, del mangiare, ma pensate l'ospitalità a Roma, esistono almeno, almeno 8000 persone che vivono per la strada, senza fissa dimora, quindi non è un problema da poco, ma pensate vicino a questo, tutto quello che dagli anni 70 ha cominciato ad essere il fenomeno della migrazione a Roma, e quindi l'attenzione a questi immigrati, perché è vero che molti arrivano dal sud via mare o via terra, eccetera, ma l'attrazione forte è sempre le città metropolitane, Roma, Milano, Torino, questi rimangono ancora oggi i forti punti, i luoghi di attrazione degli immigrati, non tanto per la popolazione, ma perché c'è quasi un senso inconscio che lì si riesce a trovare più facilmente, a sbarcare il lunario, tutte queste realtà e formule che fanno parte un po' di tutto questo mondo del disagio. E poi da sette anni sono ausiliare a Roma del settore nord, quindi un settore abbastanza vasto, con una popolazione di un milione di abitanti, 87 parrocchie, ma parrocchie anche grandi, di 50.000 abitanti, alcune, ecco, quindi non... E da maggio scorso sono presidente della Migrantes, quindi un problema questo delle migrazioni che non mi è nuovo, ecco, ho continuato io, dopo Don Di Liegro, questo fatto del dossier Immigrazione, spostando anche l'attenzione su un altro problema, su cui vorrei anche dirvi poi due parole, le migrazioni. Noi vediamo soltanto il fenomeno di immigrazione, chi arriva in Italia da paesi in difficoltà, da paesi dove c'è guerra, da guerra pochi in Italia, ecco, veramente, dove c'è però miseria, dove c'è siccità, dove c'è morte, dove c'è contraddizione di popolazioni che non riescono a vivere insieme, o dove, per un calcolo così, si immagina di poter trovare qualcosa. E poi, un po' anche nell'inconscio di tanti immigrati, l'Italia è un paese di buonisti, è un paese dove in un modo o in un altro si sbarca il lunario, non è la Germania o la Svizzera, dove con una rigorosità, a Roma dice, in Italia si chiude bene un occhio facilmente su tante cose, e quindi tante realtà che portano a costruire una certa situazione di un fenomeno che, torno a ripetervi oggi, è epocale. Noi immaginiamo soltanto l'immigrazione che arriva in Italia e soprattutto che arriva dalla fascia costiera dell'Africa, in maggioranza, quindi molti arrivano anche un po' dalla parte orientale, Sri Lanka anche facendo altre vie, dall'Africa... Ma immaginate tutto il fenomeno. Io ricordo in una conferenza che teneva al Cairo Gheddafi, che sosteneva che il problema migratorio non era tanto quello verso l'Europa. L'Africa doveva in quel momento temere tutto il fenomeno migratorio della realtà sub-sariana, quindi tutta l'Africa nera, che proprio perché in problema di siccità, si stava spostando verso la parte nord dell'Africa, portando anche lì a realtà colossali. Immaginate una città come Cairo, la capitale dell'Egitto, che passa quasi improvvisamente da 7 milioni di abitanti a 49 milioni di abitanti. Una cosa impressionante che hanno dovuto cominciare a rimandare via. Queste sono cifre che non escono sui giornali, vero? Ma era diventato qualcosa di inumano. Per cui un fenomeno che i sociologi ci dicono oggi non è provvisorio. Tra due o tre anni finirà tutto e si torna a star bene. È un fenomeno iniziato, come era iniziato nell'VIII secolo, come c'era stato in altre epoche della storia, nel XVI secolo, e le previsioni sono che durerà a lungo. Quindi non è legato semplicemente al fenomeno della guerra, ma a una realtà soprattutto di sopravvivenza e quindi di concentrazione. Pensate che l'Africa oggi subisce una seconda colonizzazione dopo quella europea. La Cina sta veramente colonizzando l'Africa, comprando pezzi di province, di nazioni, dove far coltivare, cioè per mandare i prodotti da loro. Fanno i lavori in alcuni stati a costo zero. Vale a dire con un commodato. Noi facciamo tutte le ferrovie, però le facciamo noi. Quindi significa che per 50 anni sono sotto la nostra guida e giurisdizione. Il che significa che tutta la mano d'opera viene dalla Cina, che i prodotti di ricambio uguali, tutto il modo di poter sviluppare l'economia, l'industria, eccetera, è tutta quella cinese. E parlando anche di immigrazione, pensate, la Cina è un paese chiuso, vero? Cioè i cinesi dalla Cina madre non possono uscire. Quindi qualcuno che viene per diplomatici, eccetera. Tutti quelli che noi vediamo sono quelli di Taiwan, Hong Kong, Macao. Ci sembrano già tanti. Ma immaginate se la Cina dovesse aprire le sue frontiere. Un miliardo e ottocento milioni di persone. Un miliardo e ottocento milioni. Capite che cifre? Crollerebbe in un anno l'economia mondiale. Gente che lavora 16-17 ore al giorno a costo bassissimo, l'economia mondiale crollerebbe. Quindi è chiaro che c'è un disegno anche internazionale di tenere le frontiere chiuse, eccetera, con quindi non tanto scambi, ma rapporti di dire, ecco, a livello internazionale, se non tiene una certa struttura e realtà. Questo per dirvi che quindi il fenomeno migratorio è un fenomeno estremamente complesso, che non può essere visto unicamente come qualcosa da tenere lontano. È una realtà che va governata. È un evento nel quale oggi noi ci troviamo e che quindi dobbiamo fare i conti con questa realtà. Non è immaginabile di dire si alzano i muri, si mettono i fili spinati, vero, nazioni che hanno conosciuto la cortina di ferro, vero? Io ricordo ancora quando c'era questa cortina di ferro in Ungheria, tra l'Ungheria e l'Austria. E oggi la stanno rialzando perché allora era per non far uscire dall'Ungheria, paese a regime socialista, verso l'Austria, paese di libertà. Oggi per non far entrare in un paese che fa parte della comunità europea. Quindi, certamente, ci troviamo con tante situazioni diverse. Ecco, io ritengo che noi non possiamo vedere questo fenomeno unicamente con un occhio tra virgolette di opportunismo, di quello che a me serve, eccetera. Siamo in una realtà oggi del mondo che viene definita globalizzata. Il mondo si è globalizzato non solo nelle merci, l'Europa nei soldi, nell'euro, eccetera. Ma quello che è la globalizzazione umana dell'antropologia ancora non è passato. La tecnica oggi corre molto più veloce dell'antropologia, cioè dell'idea dell'uomo. Chi è l'uomo? Chi è la persona umana? E quindi, se si possono trattare come si trattano gli animali, oppure se ognuno ha una dignità e quindi va accettato, rispettato, accolto in quello che è l'insieme dell'umanità proprio come persona. Per noi, non solo persona, per noi, figlio di Dio. passiamo quindi su un contesto che deve poter essere, ecco, quello sul quale vorrei portare la mia attenzione, non tanto su questi aspetti, perché ho visto che siete veramente da anni e ben organizzati anche nel contesto delle migrazioni, quindi, non è che devo dirvi cose concrete o di più, ma vorrei, così, riportare su quello che deve essere la nostra spiritualità in questo Vangelo. Vangelo significa buona notizia, buona notizia della misericordia, cioè di un annuncio che quel Dio che è misericordia ha realizzato questo suo essere nell'umanità attraverso il suo figlio Gesù Cristo. Un Vangelo, quindi, di misericordia che deve per noi diventare qualcosa di concreto. Il Vangelo non è un'astrazione, lo viviamo nei contesti storici dove ci troviamo, anche nelle opere che uno deve fare, avere una parrocchia sarebbe così fuori senso che in una parrocchia nuova di tutte famiglie giovanissime con bambini di piccoli facciamo il centro per gli anziani, vero? quindi, la concretezza, il Vangelo è qualche cosa che è l'espressione di chi ha incontrato questa misericordia e proprio perché è dono di Dio, è Dio stesso che è entrato in Lui, diventa realtà verso gli altri. Oggi come si esprime questa misericordia? Penso che il modo come oggi si possa e si debba esprimere questa misericordia sia quello dell'accoglienza. Accoglienza è una parola grande, la possiamo vedere in tanti modi, pensate da un punto di vista umano, sociale, filosofico, ero. Ecco, per noi cristiani riguarda qualcosa di più importante, ciò che viene dalla parola, dalla Bibbia. Ecco, io vorrei mostrare questa accoglienza non come un fatto unicamente di peso, perché purtroppo mi sono trovato a vivere in una situazione pesante, me ci trovo e per forza devo subire questa realtà. L'esperienza cristiana deve essere qualche cosa di molto diversa. Il Vangelo è gioia, il Vangelo è una presa di coscienza, di essere amato, in questo caso direi di essere accolto da Dio, Dio che mi accoglie, mi rende figlio come è figlio il Signore Gesù, con il battesimo questo siamo diventati e allora diventa per noi la gioia dell'accoglienza. Nella Bibbia se vogliamo trovare una icona di questa accoglienza quella che più mi sembra almeno iniziando dai primi libri della Bibbia dalla Genesi l'icona di Abramo Abramo che alle querce di Mambre accoglie tre pellegrini tre forestieri tre che passavano su quella strada. viene subito da chiedere avete visto poi come viene ben rappresentata Rublyov questo grande pittore del 1600 ha rappresentato ha trasferito questo senso dei pellegrini di forestieri nel discorso della Trinità è un'idea geniale l'accoglienza di quelli ci riporta a una realtà più profonda di Dio a un riconoscere nel forestiero la presenza di Dio viene da ragionare dice ma Abramo li accoglie perché pensa che quelli possano essere l'immagine di Yahweh mandati da Yahweh o perché sono dei poveri forestieri li accoglie perché sono dei poveri forestieri tant'è che li accoglie rimanendo sulla porta della sua tenda in quello che quindi possiamo dire il discorso della soglia dello stare sulla soglia un luogo quindi di incontro con l'altro e la gioia di questa accoglienza che comporta le sue difficoltà preparare da mangiare per questi dare loro da bere ne deriva una gioia ne deriva qualche cosa alla fine questi gli dicono tu che sei ormai anziano e hai una moglie sterile non è più in grado di poter partorire gli anni sono anni tua moglie partorirà avrai un figlio e la tua discendenza sarà benedetta per i secoli avrai una discendenza grande come le stelle del firmamento l'accoglienza diventa veramente gioia diventa qualche cosa che porta certamente poi nella storia della salvezza sapete anche nella legislazione ebraica nel deuteronomio c'era l'obbligo di accogliere lo straniero accoglierlo con rispetto quindi non semplicemente accoglierlo con rispetto se veniamo più vicini diremmo alla nostra esperienza cristiana pensate l'accoglienza della madonna di Maria di Maria Maria che accoglie un annuncio estraneo alla sua vita talmente estraneo che gli comporta qualche cosa che sconvolge la sua realtà qualcosa che lei sa che porterà una contraddizione che la gente del suo borgo questo borgo selvaggio che doveva essere Nazareth è vero noi oggi vediamo una Nazareth veramente una bella città ma ai tempi di Gesù era veramente un borgo sperduto sulle montagne che immaginate neanche quelle carte geografiche che l'esercito romano l'esercito occupante aveva fatto per incanalarsi verso la Siria eccetera neanche riportava tanto doveva essere dimenticato da Dio e dagli uomini eppure lì questa ragazza accetta qualche cosa che è fuori dell'ordine naturale di diventare madre senza una collaborazione di un uomo l'accettazione di una realtà dal di fuori e che porta veramente non un po' di gioia la gioia il verbo di Dio che diventa che diventa storia ma pensate anche Gesù quando parla di questa accoglienza potremmo citare tanti casi vorrei solo soffermarmi un momento su due pensate quando racconta l'atteggiamento a chi gli chiede a maestro io vorrei essere felice vorrei trovare la felicità e tutto bene osserva la legge ma io l'ho sempre osservata eccetera e allora che cosa ti dice la legge ama Dio e ama il prossimo tuo e questo è giustamente e chi è il mio prossimo pensate quanto è attuale questa domanda oggi ce lo chiediamo tutti chi è il mio prossimo è quello che a ogni semaforo trovo che viene lì a pulire da voi probabilmente poco ma sapete io che devo fare più strade a ogni semaforo neanche gli fai vedere dice guarda l'hanno già pulito quello sta lì tranquillo è quello che sta fuori la chiesa a chiedere è quello che ha rubato è quello che arriva da lontano chi è il mio prossimo Gesù a quel tale non gli risponde guarda il tuo prossimo è questo questo e quest'altro gli racconta gli fa un raccontino un tale scendeva da Gerusalemme a Gerico lo sappiamo tutti la parabola di questo samaritano passa di là un sacerdote e il sacerdote vede questo e ragiona dice ma io adesso sto andando al tempio se soccorro questo che vado a fare al tempio incorrono nell'impurità legale non posso più fare il mio servizio e allora è più importante il servizio di Dio o il servizio è più importante il servizio al tempio e quindi tira dritto quindi già da allora ci difendevamo bene nella categoria vero quando c'era da tirare dritto non è di oggi solo abbiamo lunga tradizione quindi secondo un ragionamento logico era inercepibile Gesù una volta ebbe a dire se stai per fare la tua offerta e ti ricordi che tuo fratello vai prima a riconciliarti poi fai l'offerta all'altare cambia radicalmente tutta la prospettiva di quello che è il rapporto uomo-Dio uomo-uomo e alla fine del racconto Gesù dice ma chi è stato il prossimo il samaritano e Gesù dice va e fa anche tu lo stesso non gli dice quindi chi è il prossimo tu ti devi fare samaritano tu ti devi fare prossimo all'altro cambia completamente la prospettiva nella realtà cristiana e che certamente non è facile sapete perché vivere in un contesto dove tutto è contrario facilmente si si respira l'aria vero siamo figli del nostro tempo di quell'individualismo di quel rinchiuderci di quel pensare prima a me eccetera l'altro sono le parole di Gesù quando presentando l'incontro finale di ogni persona con Dio immagina proprio perché era un grande catechete al Signore immagina il giudice un giudice che sta lì a giudicare i buoni i cattivi e allora dice ero forestiero e non mi avete accolto lontano da me venite voi benedetti perché ero forestiero e mi avete accolto e questi gli hanno maestro ma quando mai ti abbiamo visto forestiero e non ti abbiamo accolto giusta la domanda io vorrebbe in termini concreti dice se uno incontra Gesù Cristo per strada chi è che mi dice no vieni al bar a prendere qualcosa vieni a casa mia solo che come riconoscere Gesù oggi quando si va ai grandi convegni c'era vero ognuno ha il talloncino con tanto di foto e di nome non è che Gesù di ecco è lui Gesù di Nazareth come riconoscere Gesù è Gesù con molta chiarezza quando non lo avete fatto a uno di questi non lo avete fatto a me Gesù si identifica con colui che è forestiero con colui che ha fame con colui che ha sete è impressionante questo fatto non dice quando lo avete fatto a uno di questi è come se lo aveste fatto a me era questo modo un po' italiano vai lì è come se fosse per me ti fa uno sconto che infinisce più digli che vai a nome mio non lo avete fatto a me non come se lo aveste fatto a me quindi Cristo si identifica con lo straniero lo straniero è sacramento di Cristo Cristo è presente dice la Dei Verbum nella parola è presente nell'eucaristia è presente nel disagiato nel povero nel prossimo che è nella difficoltà quindi accogliere l'altro e accogliere Cristo ci sarebbe tanta realtà dei padri della Chiesa nei loro insegnamenti solo San Benedetto in tempi di difficoltà quali erano quelli dei barbari che scendevano ai suoi monaci scriveva molto semplicemente hospes alter Christus l'ospite lo straniero che viene è un altro Cristo quindi questa realtà dell'accoglienza fa parte vero di questo nostro DNA è qualcosa che ci porta veramente alla gioia come nella parabola alla fine a questi che venite benedetti avete accolto venite c'è una benedizione siete benedetti dal padre qui è la gioia di questo noi immaginiamo tante volte questo senso di una beatitudine nell'aldilà il regno di Dio è qui è cominciato qui è il regno di Dio in una realtà tante volte di contraddizione di altro questa beatitudine quindi si realizza qui in questa accoglienza in questo essere per l'altro essere con l'altro diventa veramente un qualche cosa che fa parte di una spiritualità una spiritualità che per noi deve poggiare su quella che oggi possiamo dire la teologia della prossimità del farsi prossimo all'altro ecco il tempo vola e quindi quanto è ancora? dieci minuti dieci minuti ecco quindi entrare in quella logica che deve essere veramente dell'esperienza dell'esperienza cristiana e che ci porta a vivere questa spiritualità della carità dell'amore dell'accoglienza la carità ha tanti aspetti vero oggi in questo preciso momento storico si deve identificare con l'accoglienza e l'accoglienza non può essere un fatto solo materiale è un fatto anzitutto della persona un filosofo italiano dell'altro di due secoli fa ormai siamo ormai non più nel novecento benedetto croce diceva una frase molto interessante prima ancora di realizzare un rapporto positivo o negativo con l'altro lo hai già realizzato nel tuo cuore prima di uccidere una persona l'hai già uccisa nel tuo cuore prima di accogliere un altro lo devi aver accolto dentro di te ecco l'importanza di questa formazione che noi come cristiani dobbiamo veramente entrare in questa logica non delle cose che vengono occorre perché siamo tutti esseri umani viventi formarci a questa realtà della cosa viverne le caratteristiche coglierne la spiritualità pensate anche la carità la spiritualità ecco io l'immagino tante volte in una forma molto molto semplice bella ecco in sette passi l'incontro con l'altro la fede verso è una relazionalità fede in Dio e quindi fede nell'uomo è questa relazionalità che quindi parte inizialmente da che cosa un primo passo iniziale l'incontro io incontro una persona non l'ho cercato in termini diremmo di spiritualità dice il Signore me l'ha messo sulla mia strada vero una volta un grande parroco della bassa padana Don Mazzolari diceva una frase molto bella i poveri non sono come noi li vogliamo ma come il buon Dio ce li manda e allora io incontro uno perché si viene a trovare dall'incontro ne viene un'attenzione chi è questo come mai perché che gli è successo dall'attenzione ne viene una conoscenza entro nella sua realtà dalla conoscenza ne viene un interesse qualche cosa che mi unisce mi diversifica mi fa essere partecipi questo interesse che diventa una empatia quante volte nei centri ascolti cari uno pensa dice sai ritorno a casa non è che chiude bottega come anche un prete non è che alla fine giornata chiude bottega si vede comincia a ripensare oggi è venuto quel tale non ho risolto il suo problema eppure potevo fare di più quell'altro è una situazione difficile che cosa posso fare quindi diventa un essere in sintonia una empatia con l'altro un'empatia che poi diventa una simpatia simpatia nel senso etimologico del termine sin patos cioè vivere lo stesso patos lo stesso dramma dell'altro la vita veramente tante volte è un dramma e quindi unire questo anche quando uno non può far nulla ma c'è una consonanza una partecipazione affettiva che l'altro avverte profondamente quanta gente più che di cose materiali ha bisogno di essere ascoltato di sentire che vale per qualcuno che la sua persona è oggetto di attenzione per un altro da questo simpatos si arriva al punto culminante di questa spiritualità che è quello della gratuità ecco io penso che nell'esperienza dell'ascesi cristiana la gratuità non è un punto iniziale è un punto solo terminale che ci viene quindi da una lunga formazione in cui lo spirito entra e noi ci lasciamo guidare dallo spirito quello spirito che ha condotto Gesù in tutta la sua vita e notate San Giovanni quando racconta la morte di Gesù non dice dopo il lancio del giavellotto Gesù morì dice termine latino immisit spiritum tiro fuori da sé donò il suo spirito quello è l'atto più grande l'atto culminante più alto della vita di Gesù è il dono totale dello spirito di sé stesso quindi diventa per noi ecco quindi qualche cosa che diventa di spiritualità che ci porta quindi io direi oggi in questo momento a quello che deve essere per noi una formazione e informazione l'informazione la possiamo avere su tante cose è vero non solo il dossier ve ne ha portato uno ma anche degli estratti per chi fosse interessato a poterli prendere come la rivista che pubblichiamo sulle migrazioni ecco migranti che non so se vi arriva penso chi vuole che è interessato formazione informazione che ci porta a conoscere tutta la realtà del problema vi dicevo all'inizio che oltre il fenomeno della immigrazione noi italiani dovremmo per bontà di memoria ricordare che i nostri padri furono emigrati che andarono ad emigrare nelle Americhe del Nord del Sud in Australia vero formando una nuova società pensate le società oggi più evolute in maniera tecnologica democratica sono quelle composte da più popolazioni immaginate l'Australia immaginate le Amerie l'America del Nord quanti immigrati anche italiani oggi l'Italia da paese di immigrazione sta diventando paese di emigrazione in dieci anni 2005 e 2015 sei milioni di italiani sei milioni hanno lasciato l'Italia per andare a emigrare in altre regioni parte in Europa parte in Australia parte in altre nazioni con due valori fondamentali 65% lavoro per lavoro pensate quelli che non trovano lavoro 35% per studio quindi è un fenomeno che dovremmo anche oggi rivedere in un contesto di equilibrio diverso pensate anche quindi in questo contesto del non trovare lavoro tutti i cervelli che vanno che vanno all'estero e che trovano realizzazioni ecco anche su questo ogni anno pubblichiamo come migrantes un volume su gli italiani all'estero italiani nel mondo ecco anche questo poi penso se non lo avete ecco da poterlo tenere quindi entrare in una logica completamente diversa quella dell'accoglienza deve partire anzitutto da un valore di fede di spiritualità altrimenti diventa qualcosa unicamente di sopportazione e che deve diventare quindi non semplicemente un'accoglienza materiale ma un prendere in carico questo dice il Papa prendere in carico queste persone quindi prendere in carico significa tutto quello che serve che c'è di necessità e sapete in quante forme oggi può essere vero nelle parrocchie in appartamenti gestiti in luoghi in luoghi di accoglienza nelle famiglie pensate nella diocesi di Torino almeno 120 famiglie l'ultima cifra che mi ha dato proprio nell'ultimo incontro che abbiamo avuto nosiglia il vescovo di Torino dice 120 famiglie accolgono in casa e non è da poco ora è chiaro che lì c'è una tradizione che risente nel tempo ovvero Torino è una città di forte immigrazioni dagli anni del dopoguerra che andava a lavorare lì alla Fiat eccetera e che quindi oggi però viene vissuta nel meglio non unicamente di distacco e quindi di allontanare questa gente o metterla in deghetti per conto loro portarli addirittura nelle famiglie ricreare un contesto familiare a tutti questi in maggioranza giovani eccetera che fuggono da terre e che vengono a trovarsi soli la solitudine è qualcosa di veramente brutto in questo prendere in carico io penso che una delle prime realtà debba essere proprio quello di non far sentire l'altro solo ma inserirlo in un contesto di comunità vicino a questo ci sono idee per esempio pensate che l'IKEA ha stanziato 13 milioni di euro per i campi profughi dove sono fuggiti quelli della Siria in Giordania solo dalla vendita delle lampadine a led dietro ogni lampadina a led che veniva venduta un euro andava per questo progetto quindi vedete si possono anche creare dei progetti più grandi e ultimamente si sta cercando una via nuova che è quello dei corridoi umanitari quindi alcune associazioni si sono messe insieme per creare e proprio in questi giorni l'altro ieri è arrivata una prima famiglia dalla Libia con questo contesto dei corridoi umanitari dove ci sono giù italiani che preparano la cosa e quindi non con la nave con la barchetta che poi affonda ma con volo di linea aereo arrivano in Italia e hanno già il luogo dove vengono accolti è quello che oggi si cercherebbe di poter realizzare al meglio soprattutto per tante situazioni di disagio grazie dell'ascolto grazie eccellenza per la riflessione riportandoci al cuore e al messaggio evangelico una spiritualità che ecco non dovremmo mai dimenticare grazie a tutti